Ciao, ti do il benvenuto in questo brevissimo video dove faccio un aggiornamento per quanto riguarda l'analisi di ieri di euro-dollaro perché ho utilizzato il grafico sbagliato e vi faccio vedere subito. Ieri ho fatto l'analisi con questo grafico sulla scheda analisi YouTube che è quella scheda dove faccio gli esperimenti con l'indicatore e ho preso questa analisi, non me ne sono neanche accorto ho preso l'euro-dollaro e non me ne sono accorto. Poi oggi ho postato sul gruppo riservato dell'indicatore VolTime l'analisi e un utente mi ha detto ma come mai è cambiato tutto? Ho detto ma non ho cambiato nulla, la varianza è sempre quella ogni tanto aggiungo e tolgo qualche ciclo per mettere le date giuste. E' lì che mi è venuto il flash perché sono andato a vedere e ho detto cavolo mi è cambiato tutto, giornalmente non ne ha fatto l'indicatore e ha cambiato tutto per forza, ho sbagliato grafico porca di quella miserie. E quindi sono qua a fare un brevissimo aggiornamento. L'aggiornamento qual è? Rimane valido la breccata della trendline. Evidente no? Rottura della trendline. Ingresso ricordate sotto al POC. Andiamo a recuperarlo. ce l'ho aperta, 3D in view. Metto in pausa che accendo 3D in view. Riecomi qua. E rimane valida la rottura della trendline. Ricordate sotto a quest'area si può prendere uno short però è evidente, stra-evidente che da un punto di vista del tempo non ce n'è più. Tra l'altro avendo cancellato, se ricordate le date sull'alto grafico, ho fatto un casino qui, ho cancellato tutto qua, che idiota. Quindi vado ad aggiornarla, cancello questo punto, anzi vado anche a levare la scheda di là che non serve più e vado ad aggiornare. Quindi lo short non si prende, si rimane in attesa che il mercato vada a dare un'opportunità rialzista. Circo da 20 giorni vede il minimo qua. Andiamo a vedere il ciclo da 40 giorni. vede il minimo spostato un po' prima, dove il resto erano le analisi precedenti. 40 giorni vede il massimo qui, dal punto di vista temporale. Il 20 giorni vede il massimo qui, quindi intorno al 14 di agosto. Direi che possiamo anche fermarci qua. All'80 giorni vede il minimo che era previsto qui. Quindi è corretto adesso quello che stiamo vedendo. Niente short, si rimane un attimo in attesa. Non abbiamo trendline, giusto vedere se c'è una trendline di circa 10 giorni, ma non c'è un piffero di niente. Esatto, non c'è nulla. Abbiamo però da poter tracciare una trendline da utilizzare come supporto, che è questa del ciclo a 40 giorni. Quindi andiamo a unire questo massimo e questo massimo e ne andiamo a mettere qua. Quindi questa trendline di circa 40 giorni, eccola, la vediamo, sta tenendo perfettamente il prezzo ed è già un'indicazione di possibile rimbalzo per una fase di rialzo. C'è poco tempo, fino al 14 di agosto, dubito che il multidate possa guardare un'opportunità di rialzo. Io in un momento non ne vedo, anche perché dobbiamo andare a cercare chiaramente un inizio di struttura di mercato e che qui non avremo il tempo materiale su un giornaliero di poterla cercare. Probabilmente potremo vedere ciò su un time frame più basso. È scomparso di nuovo trading view. Mannaggia, che è qui. Potremmo vederlo molto probabilmente su un time frame più basso, perché è un ingresso a breccate, è troppo lontana, oppure aspettare che il mercato vada a rompere quest'area ad alto volume, allora poi a quel punto lì andare a prendere in trend, insomma in tendenza, poi un ingresso successivamente, intorno a 1,10, 19, parlo di future, quindi lo vedi, EuroFX futures, ossia 6E che è il simbolo del future, quantomeno con CQG che il data feed che utilizzo io. E quindi al momento rimaniamo alla finestra, rimanete alla finestra, non si fa assolutamente nulla, ma semplicemente si attende poi un successivo segnale realzista a poter andare a prendersi, invece il prezzo rimarrà sotto chiaramente alle medie, allora bisognerà per forza di cose, ma dov'è qui? Ah qui non c'è proprio ancora là, bisognerà attendere per forza di cose la data del 14 vostro e per andare nuovamente a cercare allora degli shot, sapendo che abbiamo a disposizione molto più tempo, perché abbiamo a disposizione più di un mese di possibile ribasso contro 12 giorni scarsi di adesso. Quindi chiedo scusa per l'errore, meno male che un utente del canale Telegram riservato all'indicatore me l'ha fatto presente e ho provveduto subito a fare una correzione. Ciao e alla prossima analisi per dopo.